Uno strumento di comunicazione e di relazione con la comunità che offre una sintesi dei risultati delle politiche regionali partendo dagli obiettivi e dalle risorse a disposizione. È il bilancio sociale della regione Piemonte, strumento di partecipazione e di controllo da parte della comunità, presentato e discusso a Palazzo Lascaris durante il convegno Una regione trasparente fra limiti finanziari e necessità di sviluppo. I dati, l'80% delle risorse impegnate nel 2015 sono state destinate al benessere della persona e della famiglia, il 10% per l'efficienza delle istituzioni, il 6% per il territorio e il 4% per lo sviluppo della competitività. Il bilancio sociale vede il coinvolgimento delle diverse strutture regionali in collaborazione con l'Università di Torino e con l'Ordine dei Commercialisti del Piemonte. Quest'anno è stato inoltre presentato per la prima volta anche il rendiconto semplificato per il cittadino.